Un furgone per le consegne fermo in via Vittorio Emanuele in pieno centro storico a Como. Ancora pochi giorni e poi non sarà più possibile vedere una scena del genere perché il comune di Como è pronto a togliere le auto da molte vie e piazze del centro storico. E per esempio via Vittorio Emanuele sarà completamente pedonale 24 ore su 24 in questo punto tra via Aperti e via Indipendenza. La rivoluzione segue la riqualificazione delle piazze Volta e Grimoldi ma prevede anche la pedonalizzazione di altre zone come il tratto finale verso piazza Verdi di via Bellini, via Maestri Comacini, via Cinque Giornate tra piazza Duomo e via Boldoni, piazza Cavour, piazza Verdi e appunto la centralissima via Vittorio Emanuele. La stessa via Vittorio Emanuele resterà zona traffico limitato per gli autorizzati da via Indipendenza a via Rusconi mentre da questo punto in avanti fino a piazza Duomo i veicoli autorizzati per le consegne ma non solo potranno passare soltanto fra le 6 e le 10.30 del mattino. Una strada divisa in tre dunque con altrettante limitazioni e fasce orarie. Pedonalizzazione parziale anche in piazza Duomo e via Plinio dove i mezzi saranno banditi ma gli autorizzati avranno la possibilità di circolare dalle 6 e le 10.30 del mattino. La bozza di ordinanza del comandante della polizia locale di Como Donatello Ghezzo è pronta ancora a pochi giorni e verrà firmata quindi arriverà la segnaletica e la rivoluzione diventerà realtà anche se il comune è precisa che prima che il provvedimento entri in vigore verranno informati i residenti e i commercianti che già si dividono. I negozi sono chiusi fino alle 9.30 sono chiusi perciò dovrebbero un'ora dovrebbero fare tutto oppure il commerciante deve arrivare prima ma siccome noi facciamo già degli orari abbastanza capestro chiederci anche questo io mi chiedo se c'è una sostituzione. Ma perché ci si organizza? Comunque i fattorini hanno dei determinati orari noi sinceramente non abbiamo neanche il pass quindi verranno a consegnare entro le 10.30 i negozi aprono un quarto alle 10 se no è assurdo sembra un'autostrada. Che devo dire? La gente deve portare la merce o no? Come facciamo? Poi dove andiamo a fare la spesa? È chiuso sono le 6, aprono le 9.30 facciamo in tempo andare là a fare la spesa, venire qui non ce la facciamo più. Noi non sappiamo più cosa fare qua. Grazie a tutti.